in pista l'uomo forte di fratelli d'italia al parlamento europeo ma il governatore non cede la scalata di raffaele stancanelli è sempre più definita l'eurodeputato di fratelli d'italia già fedelissimo del governatore nello musumeci al suo fianco per tutta la campagna elettorale delle regionali e principale interlocutore con gli alleati della coalizione rilancia la corsa verso palazzo d'orlean dal giorno del divorzio col governatore l'ex sindaco di catania ha continuato ad essere la stessa rete di relazioni politiche che fino al giorno prima venivano indirizzate a beneficio del fondatore di diventerà bellissima il primo ultimatum ai suoi insomma lo ha lanciato stancanelli o con me o con musumeci uno scontro all'ombra dell'etna che si è inasprito mese dopo mese meloni e salvini a roma non fanno mistero di voler archiviare le era nello il centrodestra è pronto a offrire al governatore l'uscita onorevole di un seggio al senato quando si tornerà a votare tanto più se si precipitasse alle politiche subito dopo l'elezione del presidente della repubblica del febbraio prossimo la leader di fdi sogna di incassare la candidatura di un suo uomo al posto dell'attuale presidente che è considerato sempre più ingestibile dalla stessa destra il capo leghista pretende di piantare la sua bandierina in sicilia ma gli manca l'uomo di peso per farlo così stancanelli diventa per investitura naturale l'antimusumeci conosce i punti deboli dell'avversario e ne ha fatto i suoi punti di forza risponde sempre a tutti dispensa consiglia gli amministratori locali che ne chiedono l'intervento risolve gli screzi politici segue i delicati passaggi delle amministrative anche all'assemblea regionale i tre deputati di fdi sono vicinissimi all'ex primo inquilino di palazzo degli elefanti pure mantenendoli in carico a bruxelles lui all'ombra dell'etna c'è grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti